Parole, 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 questo è il titolo del manifesto, affisso dalle opposizioni a Isernia che ha guastato il Natale del Sindaco. Brasiello viene accusato dai gruppi di minoranza di aver fatto finora solo chiacchiere per l'università che sta lasciando il centro storico, per le mille emergenze sociali della città e ultima, ma non ultima, questione per le tasse, aumentate a raffica fino a far diventare Isernia capitale nazionale dell'imposizione fiscale comunale. Il Sindaco preferisce non commentare e chiede agli Isernini un atto di buona fede, sperando in una ripresa nel 2015. Io mi auguro che il 2015 possa rappresentare l'anno della svolta, abbiamo appena trascorso un 2014 difficile, complesso, per il quale abbiamo dovuto fare anche scelte in qualche modo impopolari. Io mi auguro che l'anno prossimo possa veramente esserci la svolta da tutti i punti di vista. Io l'impegno personale di lavorare sodo, di mettercela tutta, lo sto facendo. Mi auguro che i cittadini, mi auguro che la gente, mi auguro che le imprese del nostro territorio apprezzino questo sforzo. Speriamo bene. Intanto il Sindaco ha incontrato i dipendenti del Comune per lo scambio degli auguri ed ha annunciato un'altra novità che farà sicuramente discutere. La delega per il personale passa al Presidente del Consiglio, Franco Capone. Anche qui una scelta che sicuramente farà discutere in quanto per tradizione il Presidente del Consiglio Comunale deve restare una figura super partes. Ho voluto fare questo incontro come ogni anno, d'altra parte, sapendo che ci sono delle criticità, sapendo che ci sono delle cose che dobbiamo mettere a posto. Io mi auguro, tra l'altro ho anche nominato il Presidente del Consiglio, ho dato a lui la nomina del personale proprio per intervenire rapidamente e per risolvere quelle problematiche che ci sono. Stiamo lavorando sodo, io sono certo che con la loro collaborazione andremo avanti tranquilli. E' novità anche per la provincia, dove c'è il problema del ricollocamento di una cinquantina di unità che saranno messe in mobilità per andare verso Tribunale, Regione e Comune. Non è una situazione facile, sarei un falso se dicessi il contrario. Credo che bisognerà lavorare nei prossimi due anni per allocare il personale in altri posti e credo che le province termineranno la loro vita. Ma dobbiamo essere bravi in questi due anni a mantenere tutti quei servizi che ancora le province hanno. Speriamo bene, ma il mondo è cambiato, sta cambiando e noi dobbiamo essere al passo.